Processione del venerdì santo rinviata a data da destinarsi, niente bacio del crocefisso. Quest'anno i momenti religiosi di avvicinamento alla Pasqua sono fortemente condizionati dall'emergenza in corso. Grazie alla collaborazione con Espansione TV, i fedeli potranno però seguire le celebrazioni principali da casa, dal televisore oppure collegandosi al sito dell'emittente espansionetv.it o alla pagina Facebook. Tra i momenti salienti, il primo è in programma il 5 aprile, domenica delle palme. Il rito in cattedrale sarà trasmesso dai TV dalle 9.30. Il giovedì santo, dalle 17, sempre dal Duomo, sarà trasmessa invece la messa della Cena del Signore. Mentre il giorno seguente, venerdì santo, tradizionalmente dedicato alla solenne processione, dalle 15 il vescovo Monsignor Oscar Cantoni presiderà la celebrazione della Passione del Signore, sempre in cattedrale. Nella preghiera universale si introdurrà l'intenzione predisposta dalla CEI. Il sabato santo si potrà seguire dalle 20.30 la veia pasquale e la domenica di Pasqua la Santa Messa preseduta dal Vescovo in Duomo in diretta alle ore 17. La messa delle 10 della domenica mattina torna il 19 e il 26 aprile. Come detto, sarà possibile seguire tutti gli eventi, oltre che in TV, tasto 19 del Digitale Terrestre, anche sul sito e sulla pagina Facebook dell'emittente. Grazie a tutti.